Sono riuscito piano piano, un pezzettino alla volta, un po' di fantasia ogni tanto mi veniva e nell'arco di 2-3 anni ho costruito un pezzettino alla volta, questo è il risultato per passare un po' il tempo, di solito lo facevo dentro casa, ma l'anno scorso nessuno l'ha potuto vedere, ogni anno un pezzettino in più e quest'anno ho pensato portarlo fuori dall'aperta così può guardarlo qualcuno oltre che i miei parenti e i miei amici. Tutta cosa è costruita pezzettino per pezzettino, non c'è niente di comperato, a parte la parte dei movimenti che è chiaro ho dovuto comprarli, ma il resto è tutto costruito così, dalla chiesa di Sarnaglia, le fontanelle che ci sono giù e tutto il resto, l'idea è che è venuta così e mi sono sbizzarito un po' dai, diciamo.